Giorgi, se è un mercato bloccato, ancora quali saranno i colpi o il colpo che potrà far partire tutte le altre trattative? Non è facile dirlo, sicuramente da stasera in poi credo che le società si dedicheranno esclusivamente a rinforzare le squadre dopo aver risolto le compartecipazioni. Credo che sarà la Juventus a fare i primi acquisti veramente degni di nota, parlando di giocatori tipo Tevez e via dicendo, i Gain, credo che sia la Juventus che sarà la prima società a fare qualcosa di importante. Lei che conosce bene anche il Manchester City, secondo lei per Tevez può essere più in vantaggio la Juventus rispetto al Milan? Questo non lo so, posso solo dire che chiunque lo prenderà avrà un grandissimo giocatore perché è veramente un campione, un giocatore che gioca da solo davanti, fa la guerra con tutti, fa gol, non si ferma mai. Secondo me è un giocatore straordinario per il calcio italiano anche. Per quanto riguarda le comproprietà ce ne sono alcune abbastanza intricate, mi riferisco per esempio a quella di Cerci tra la Fiorentina e il Torino, come andrà a finire? Secondo lei ci può essere il Napoli che può inserirsi nella corsa a questo giocatore? Questo non glielo so dire, non credo che il Napoli, mi sembra che il Napoli abbia veramente molti giocatori, soprattutto anche in quella zona del campo, però bisogna riconoscere che il Torino ha fatto una grande operazione prendendolo, però è partito avvantaggiato perché è un allenatore che conosceva molto bene questo giocatore, pregi e difetti e ha esaltato sicuramente i pregi che non sono pochi, per cui grande merito a Torino e a Ventura che hanno valorizzato un giocatore così. L'hanno portato in nazionale che non è poco. Tornando al Manchester City, anche Kolarov secondo lei può tornare davvero nel campionato italiano? Può essere, perché credo che sentire il direttore sportivo con cui ho parlato un mese fa, sono diversi giocatori che potrebbero anche andare via. Può darsi anche Kolarov, perché è un giocatore che vuole giocare sempre tutte le partite, perché è un guerriero anche lui come Tevez, però davanti a un giocatore che è molto più, molto forte. Mi invitavo di una domanda su Mancini, possibile che a breve trovi una panchina importante? Non ho idea, non lo sento da qualche periodo, ma mi auguro per lui trovi domani mattina la migliore situazione possibile, perché per gli allenatori allenare è la cosa più importante che ci possa essere. Hai parlato anche del Paris Saint Germain, anche se la situazione... Non saprei, il mio amico francese mi assicura che secondo lui non andrà mai a Sam Wenger a Parigi, però le chiacchiere sono diverse, mi pare che andrà l'anno prossimo, per cui credo che nessun allenatore che voglia fare l'allenatore in un certo modo possa accettare un anno di contratto, anche se è in un grande club. E per quanto riguarda invece una nazionale, per Mancini potrebbe essere un'ipotesi, se la parlate anche della Russia? Non ho idea, lei mi ha fatto una domanda e spero che trovi squadra, la Russia non so, credo che il cappello sia lì che stia facendo bene, non ho proprio idea.